In un video precedente ci eravamo occupati della compilazione di una mini applicazione Windows Form con la casella combinata, la nazione, quindi questa è una rubrica telefonica semplice a maschera singola. Vedete che però avete notato che quando fate doppio clic sull'eseguibile, compilato con il WBC compiler attraverso il batch, veniva aperta anche una finestra al prompt dei comandi. Ora in questo video invece estendiamo questo progetto e aggiungiamo la parte di dettaglio, cioè i numeri telefonici relativi a nominativi. E nell'occasione vi faccio vedere subito come compilare come applicazione Windows, cioè in modo che quando fate doppio clic scompare la finestra nera ma appare soltanto la finestra Windows. Ve lo faccio vedere subito per prima. Allora, dalla finestra del DOS andiamo su Master Detail, oppure anche semplicemente su quello di prima, cioè su SQL Test 2, ve lo faccio vedere anzi già qui in diretta. Sul Master Detail abbiamo aggiunto un flag, un argomento che ora vi mostro. Allora lo facciamo realmente, andiamo sul batch qui dalla finestra Windows, ok? Lo apriamo con il block notice, lo riduciamo un po' perché è troppo lungo, ok? Allora basta aggiungere, vedete, sul WBC, Out, SQL Test Exe, ok? Dopo l'out aggiungiamo un S Target, due punti, Win Exe, ok? Target, due punti, Win Exe. Poiché il default dell'argomento target è Exe da solo, quindi l'Exe da solo significa applicazione console, cioè del DOS, quindi si apre il prompt nero. Noi non vogliamo questo, vogliamo creare invece una finestra Windows, quindi abbiamo aggiunto, abbiamo modificato l'argomento, l'impostazione default target su Win Exe, ok? Chiudete, adesso riavviamo, da DOS sempre il batch, questo è SQL Test Bat, ok? Ok, perfetto, ok, è stato eseguito, quindi è stato prodotto un altro SQL Text, SQL Test Exe, è sempre l'estensione Exe, ma questa volta questa è un'applicazione Windows. Per averne la prova basta fare doppio clic, vedete, compare, questa la possiamo anche chiudere, chiudiamo e facciamo, vedete, compare adesso la finestra Windows del nostro progettino senza la finestra DOS dietro, ok? Che in questo caso abbiamo compilato lo stesso progetto, modalità Windows Exe, ok? Bene, spiegato questo, adesso torniamo al nostro progetto di questo mese, cioè scusate, di questa settimana, adesso abbiamo appunto, siamo ripromessi di fare un mini tutorial sulla programmazione del PC ogni settimana, Allora, andiamo su Master Detail, allora, vediamo subito, e vedete anche qui, il Master Detail Bet contiene il target WinExit, eccolo qua. Per il resto, le impostazioni sono le stesse che abbiamo discusso nelle altre video, ok? Quindi rimando agli altri video per la spiegazione degli altri flag. Allora, in sostanza, noi compiliamo praticamente due file sorgenti, mainform, chiamo solo questo, mainform.vb e mainform.designer.vb che avete nel file zip, vedete? E per fare questo gli do asterisco.vb, subito dopo main.mainform, bisogna dirgli qual è il file vb che contiene la routine principale, cioè il mainform, ok? Però il nome dell'eseguibile si chiamerà Out Master Detail Exit, ok? Poi ci sono le varie DLL che vanno a cluse, ok? Il path sopra serve per poter lanciare il vbc dalla sottocartella, solo per quello, ok? Vediamo subito allora il risultato finale di Master Detail, ecco, vedete? Nella parte superiore della finestra abbiamo esattamente gli stessi campi che avevamo prima, cioè la ragione sociale, l'indirizzo, la locretà, la nazione, della tabella rubrica che proviene da un database, lo ripetiamo, SQLite, quindi qui stiamo lavorando con SQLite come database, che adesso l'abbiamo chiamato rubrica DB. Vi faccio vedere con SQLite Browser il contenuto della rubrica DB. Abbiamo nazioni, numeri telefonici, ok? Rubrica e tipologie e numeri. Tipologie e numeri servono per il combo, questo qua, vedete? Che sta nel controllo Data Grid View, ok? Chiudo adesso il DB Browser che è un programma OpenSus, anche di quello vi abbiamo segnalato il link per scaricarlo, eh? Allora torniamo a spiegazione di questa finestra, vedete abbiamo, se noi adesso passiamo sulla barna navigazione record da Alfred Futterquiste che ha due linee telefoniche, al secondo nominativo Antonio Moreno Taquera vedete che nel Data Grid View compaiono non più naturalmente come ovvio aspettarsi, ma non è tanto ovvio il livello di programmazione, eh? Adesso vedremo come abbiamo risolto questo problema, quindi accompagnano le linee di Antonio Moreno Taquera perché c'è una relazione, attenzione, non ci sono le relazioni in SQLite ma quindi sono gestite da codice, eh? Quindi occorre definire la relazione tra numeri telefonici e rubrica che è l'ID rubrica appunto che sta in tabella numeri telefonici. Sono stati nascosti qui i primi due campi della tabella perché non significativi, cioè il primo è la chiave primaria della tabella numeri telefonici che si chiama ID numero mi pare, ecco, e la chiave esterna ID rubrica invece che serve, dito le quinte, per gestire appunto la sincronizzazione tra la maschera principale e quella secondaria, ok? Quindi qui in pratica ci sono due maschere, la seconda maschera in realtà non è una maschera vera e propria, non è un form, ma è un controllo Data Grid View molto comodo, eh? Perché è già disponibile con il Net Framework, eh? Di Windows. Ora vediamo a livello programmazione come si giunge a questo risultato e come, tra l'altro, abbiamo risolto il problema del tasto Elimina, e abbiamo inserito elegantemente un message box di conferma prima di eliminare, se l'utente risponde no, non succede niente. Questo perché, vi dico subito, il tastino Elimina, quello con la X rossa, di default della barra di navigazione record di Windows Phone, ahimè, purtroppo, procede all'eliminazione to cure e quindi non consente l'andò, diciamo, no? Il salvataggio, cioè la possibilità per l'utente di dire, beh, mi sono sbagliato a cliccare qui in basso, magari volevo solo aggiungere e quindi non volevo eliminare. In questo modo è impossibile sbagliarsi, ok? A meno che uno chiaramente non risponda sì, in quel caso. Allora, facciamo l'esempio del più, vedete, se io inserisco un più, per esempio, non so, nuovo nominativo, tanto è fantasia, insomma, indirizzo via dei platani, per esempio, 98, 90, ok? Località, non so, Milano, Nazioni, Italia, ok? Italia, e gli diamo anche un numero, non so, esempio 02, numero linea, 99, 89, quello che è, tipologia, c'è numero telefono fisso, telefono fisso aziendale, deve essere telefono fisso, ok? Bene, a questo punto, vedete, cosa faccio? Navigo tranquillamente, i dati, però, del nuovo nominativo non sono stati ancora salvati, nell'altabase, lo sono all'uscita, quindi chiudo, rientro, rientrando, ho la prova, vedete, sono 82, vado sull'ultimo, è stato inserito sia il nuovo nominativo nella tabella rubrica, sia il nuovo numero telefonico nella tabella, numeri telefonici, e sono già incoordinati. Se adesso lo elimino, vuoi davvero eliminare un motivo corrente? Sì, se tornano 81, chiudo, chiudete sempre e riaprite per avere la certezza che i dati siano stati rispecchiati nel database, funziona tutto regolarmente. Ovviamente questo è solamente un primo esempio di master detail, cioè una bozza, se volete aggiungere ulteriori regole di convalida, lo potete fare con degli if e dei message box, per esempio l'indirizzo, per non lasciare vuoto la località, per non lasciare vuoto il nome, eccetera, in questo caso non ci sono ancora regole di convalida così estese, però vedete l'oggettino master detail funziona tranquillamente in tutta la sua completezza. Vediamo a livello tecnico velocemente come abbiamo fatto, allora, quali sono soprattutto le differenze, andiamo prima sul main form design, il WB, rispetto, forse qui è meglio utilizzare un altro editor, al posto di notepad, usiamo il notepad++, ecco che ha il vantaggio di colorare diciamo le parole chiave, quindi aumenta la leggibilità. Allora, questo è dei due file sorgenti, quello che contiene un po' le cose più noiose, cioè le informazioni relative, le istruzioni relative agli oggetti grafici, ok? Allora, vediamo subito che nella sub initialize component c'è una nuova riga che si chiama mi data grid view 1 new system windows form data grid 1, questa è l'istanza, l'istanzializzazione dell'oggetto griglia. Prima di fare questo però occorre che in fondo, al di fuori della initialize component, ma dentro la classe main form partial, ci sia un private data grid view, eccolo qua, private data grid view 1 è il system windows form data grid view. vedete che l'oggetto griglia, griglia dati, fa parte della classe system windows form, quindi ce l'avete già senza saperlo nel computer come net framework, come librerie network framework. Quindi private data grid view è il system, ok? Poi in fondo, prima di fare il main form, cioè prima di uscire dalla routine initialize component, deve essere fatto naturalmente anche il mi controls add mi data grid view, quindi ricordo, quelli sono i tre passaggi, la dichiarazione della variabile private al di fuori della sub, ma dentro la classe, l'istanzializzazione con la parolina chiave new in alto, ok? Eccolo qua, new system windows form, e poi chiaramente l'add controls, controls add, ok? Per aggiungere i controlli effettivamente al form. A quel punto però il vostro nuovo controllo è sicuramente visibile, ma non ha dati, ok? Per popolarlo con i dati della tabella numeri telefonici, bisogna che passiamo all'altro file, che è il main form vb, lo apriamo sempre con notepad plus, ecco allora andiamo nella routine load, ok? Main form load, vedete? È la stessa che avevate prima nel progetto SQL test 2, dove c'era solo la maschera singola, allora c'è, vi ricordo, il dataset che si chiama DA, e anche questo è definito a livello di programmazione nell'altro file, quindi è un private DA, SQLite Data Adapter, per fare questo vi ricordo occorre che qui in alto, nella direttiva imports sia presente la direttiva import system data SQLite e anche la import system data, ok? Quindi, allora, a questo punto ecco qui la relazione, allora, attenzione, qui c'era le rubri, questa istruzione qui c'era già anche nella maschera singola, da qui iniziano le nuove istruzioni, quindi ho inserito delle nuove istruzioni prima di definire i text box, ok? Quindi ce ne sono un bel po', eh? Vediamolo velocemente, allora, il più importante è quella che definisce la relazione, eh? La relazione di integrità referenziale tra la tabella master e quella detail, ma prima bisogna, ecco, aggiungere, un metodo fill magico, aggiungere al dataset 1, il dataset 1 è lo stesso dataset utilizzato per contenere la tabella rubrica, per contenere, dovrebbe essere da qualche parte istanzializzata, eccolo qua, sì, il dataset 1 è stata caricata sul dataset 1 attraverso il DA Securite Adapter, la tabella rubrica, select asterisco from rubrica, e gli è stato attribuito il nome rubrica. Vedete, ora invece aggiungiamo un altro dataset, tra l'altro sempre il dataset 1, avrà poi aggiunto dopo anche il combo, il combo sia delle tipologie numeri, sia quello delle nazioni, eccolo qua, vedete? Eccolo qua, questo l'avevamo visto nel video precedente, l'abbiamo lasciato intatto, che è fill dataset 1, nazioni, select from nazioni, per far venire fuori il combo box, al posto del test box, nella maschera in alto, eh? Quella master. Va bene, adesso vediamo la relazione. Allora, prima cosa da fare è definire un oggetto relation, ok? As new data relation, questo è un oggetto della libreria, della libreria, dovrebbe essere della libreria system data, ok? Quindi non è della SQLite, quindi questo oggetto relation è disponibile indipendentemente dal tipo di database. Allora, definiamo la dim relation as new data relation, la chiamiamo, gli attribuiamo un nome che si chiama rubrica, nomi telefonici, ok, questo è un nome arbitrario, eh, per definire la relazione, e corrisponde un po' alla tabella mSys relationship di Arcys, quella nascosta, perché chi segue Arcys lo sa, quindi questo però, non viene salvata con il database SQLite, questa relazione, ma la dobbiamo definire a livello di interfaccia, di programmazione. Quindi dim relations as new data relation, ok? Il secondo argomento del new è la prima colonna, ok? Quindi sarà data set 1 tables, siccome nel data set 1 ci sono già sia la tabella rubrica, che quella dei numeri telefonici, qui definiamo semplicemente qual è la colonna della relazione, della relazione master del TAI, no? Ok, genitore e figlio. Allora, data set tables rubrica, columns, id rubrica, il nome del campo della chiave primaria di tabella rubrica, e poi il terzo argomento è la chiave esterna della tabella numeri telefonici, data set 1 tables, numeri telefonici, columns, id rubrica. Hanno lo stesso nome, potrebbero avere nomi diversi, eh? Vediamo in DB browser, perché questo è importante, se io apro di nuovo il rubrica, vi faccio vedere allora che rubrica, e facciamo modify table, vedete id rubrica, chiave primaria, ok? Questo è il campo master, ok? Mentre il campo detail, il suo numero telefonici, modify table, id rubrica, avete lo stesso nome, un intero, deve essere lo stesso tipo, questa è la chiave esterna, Mentre la chiave primaria di numeri telefonici è id numero, ok? pick up sta per primary key, e ai auto increment, e chiudiamo il DB browser light, quindi data set relations add, attenzione, solamente a questo punto qua, viene aggiunto al data set, vedete che il data set, è fatto in modo tale, è fantastico questo strumento, perché è indipendente dal provider di accesso ai dati, Il data set 1 può contenere sia tabelle, sia relazioni, quindi è già in sé in sostanza un scheletro di un database relazionale, se vogliamo, ma senza contenere regole che riguardino o Microsoft Access, o SQL Server, o SQLite, quindi essenzialmente è un oggetto di programmazione della libreria Windows Net Framework, allora a questo punto la relazione così definita viene aggiunta al data set 1, che già contiene i dati delle due tabelle, e quindi praticamente la nostra applicazione ha tutte le informazioni per generare il nostro master detail, attenzione, allora, questa è la relazione, però bisogna fare il binding, il binding è anche questo, è un passaggio abbastanza delicato, quindi seguitemi qua, perché è un po', diciamo, fuori dagli schemi, nel senso che uno si aspetterebbe, diciamo, semplicemente, ok, il data source è facile, binding source 1, è l'oggetto binding, binding che viene utilizzato per la tabella master, cioè rubrica, quindi data source, attenzione, noi nel video precedente avevamo collegato il binding source, come data source, alla tabella rubrica e basta, invece questa volta gli diamo data source al data set 1, quindi data set 1 nella sua interesse, quindi che comprende anche la relazione, mentre nella versione precedente c'era solo la tabella rubrica e basta, perché era una maschera singola, questa volta data source del binding source 1, è il data set 1 nella sua interesse, e questa già è una prima modifica da fare, se volete il master detail, poi la proprietà data member, che non c'era l'altra volta, ok, mi pare che non ci fosse, invece va specificato rubrica, questo per stabilire che la tabella che va nel binding della maschera principale, è comunque rubrica, quindi in questo modo, poi attenzione, adesso vediamo il secondo oggetto, details binding source, da dove proviene questo details binding source, adesso non ci andiamo, ma comunque lo potete vedere voi, è praticamente un altro oggetto binding, definito nelle tre fasi, nell'altro file, nel main form designer, quindi lì troverete il details binding source, as quello che è, quindi è il binding, quindi è un oggetto equivalente al binding, binding source 1 praticamente è il master, invece details binding source è binding source del dettaglio, quindi va collegato alla rubrica numeri telefonici, attenzione, non è collegata alla tabella numeri telefonici, vedete il data source, questa volta il data source del dettaglio, del maschera del dettaglio, non è collegata direttamente al dataset 1, ma al binding source 1, vedete l'incrocio, può sembrare strano, perché il data source, di solito si aspetterebbe un dataset, invece noi li colleghiamo, un binding source come dataset, come data source, questa è una cosa un po', diciamo fuori dall'ordinario, un po' strana, comunque per realizzare il master detail, bisogna seguire questo schema, tra l'altro questa tecnica, si utilizza anche quando avete due combo, due caselle combinate, per esempio nella prima avete, non so, sports, pensate all'altabese olimpiade, nel secondo discipline, io scelgo prima lo sports, per esempio il pallacanestro, eppure mi si aprono nell'altra casella combinata, solo le discipline che corrispondono a quello sport, lo stituzionato nella prima fase, oppure nazioni, non so, nazioni, regioni, vabbè, quello che è, per cui, anche lì in questo caso, si stabilisce una relazione, tra le due caselle combinate, quindi il data source del secondo binding, quello collegato alla seconda casella combinata, in questo caso invece è al data grid view, ok, è binding source 1, cioè il binding del master, mentre il data member, che nell'altro era rubrica, qui è, non più, non numeri telefonici, ma alla relazione, quindi questa è una cosa anomala, nel dettaglio, nella maschera di dettaglio, il data source è collegato al binding source, cioè al binding source del master, ok, della tabella master, e, anziché ad un dataset autonomo, ok, al dataset, ad un altro dataset, e invece il data member, anziché fa riferimento al nome di una tabella, fa riferimento al nome di una relazione, in questo caso è la relazione che avevamo definito, avevamo aggiunto, dataset 1 relations, che è presente nel dataset 1, vedete che l'oggetto, questo è il binding solamente, quindi è un intermediario, non è ancora collegato all'oggetto data grid view, lo sarà immediatamente dopo, data grid view 1, data source uguale, details binding source, ecco, vedete, questo giro qua, vi assicura la creazione, se capite bene questo passaggio, potete fare tutti i master details che volete, semplicemente con un database SQLite, e un maschera Windows Form, addirittura compilato dall'arrivo del comando, senza bisogno neanche di lead, quindi attenzione, questo è molto importante, ok, questo triplice passaggio, cioè anzi quadruplice, perché la prima è la definizione della relazione, definizione della relazione, l'aggiunta di questa relazione, al data set, data set 1, quindi lo facciamo tutto con un unico data set, lo stesso data set, viene utilizzato per tutti i combo, per la tabella master, e per la tabella dettaglio, fantastico, quindi c'è bisogno di inizializzare altri data set, e quindi, ok, nel secondo passaggio, si stabiliscono le proprietà data source, data member, dell'oggetto binding collegato alla master, nel terzo passaggio, la data source e la data member, del binding relativo al dettaglio, avendo cura che il data source, sia collegato al primo binding, e il data member, al nome della relazione, anziché al nome della tabella, e la quarta passaggio, è l'associazione di questo details binding source, alla proprietà data source, del controllo data grid view, in questo modo, qualunque siano le tabelle, e le relazioni, il data grid view, che sta nella parte in filo della vostra finestra, sarà sempre collegato in maniera intelligente, alla tabella master, ok, le altre istruzioni, velocemente le vediamo, ok, qui nascondiamo le prime due colonne, del data grid view, cioè di rubrica e di numero, perché non ci interessa, poi c'è un altro, un dataset volante, Seculite Data Adapter, per fare il combo, nella quarta colonna, cioè, perché noi definiamo, le tipologie, numero fisso abitazione, numero fisso, numero cellulare, eccetera, la descrizione della tabella, tipologia e numere, ok, esattamente questa è la tecnica, come per il combo nazioni, solo che qui, in questo caso, va inserito dentro un elemento, di un data grid view, allora vedete, una volta definito l'oggetto, combo box column, ok, as data grid view, combo box column, addirittura è già previsto, addirittura, il combo, di casella combinata, da inserire dentro una casella, di un data grid view, vedete, tipologia, tipologia e numeri, ok, qui c'è il data source, value member, display member, rimandiamo all'altro, all'altro video, dove parlavamo della casella combinata, nazioni, la stessa tecnica, ecco, invece la differenza sta qui, nel data grid view, columns, remove add 4, add 4, perché comunque i primi due, contano anche di rubrica e di numero, anche se sono invisibili, ma ci sono, quindi praticamente, rimuoviamo la casella di testo, che sta nella quarta colonna, e la sostituiamo con il combo box column, ok, questo è interessante, quindi potete aggiungere nel data grid view, dei combo nella posizione desiderata, ok, e qui continuano le istruzioni esattamente come nel progetto precedente, cioè il binding degli altri test box, cioè la regione sociale, indirizzo, località, ok, questo qui è in azioni, vedete, finisce la load, ora vediamo velocemente invece come facciamo a gestire l'aggiornamento, per gestire l'aggiornamento, qui ahimè, il video diventerà un po' lungo, ma bisogna farlo, se noi non gestissimo, non gestiamo, cioè se non avessimo gestito, i condizionali passati sono terribili, questa parte qui, diciamo, questo codice, tra l'altro c'è una struttura, try, catch, exception, exception, che è un po' una cosa nuova, perché è abituato al VBA, quindi nel VBA non c'è, corrisponde in sostanza a una gestione, diciamo, degli errori, cioè anziché fare un on error, go to, si fa un try, catch, se si verifica un errore, si gera un exception, ma vabbè, normalmente se non si verificano errori, questo codice viene eseguito regolarmente all'interno del try, non bisogna farlo, in certi casi è proprio necessario farlo. Allora, praticamente questo main form closing, deve esserci naturalmente, nell'altro file, l'add handler, meglio che lo vediamo questa volta, andiamo nel main form designer, lo apriamo con notepad plus, allora, ci deve essere in fondo, prima dell'endsub del installatis component, eccolo qua, vedete, l'add handler, allora c'era l'add handler's load address of me main form load, per la routine su caricamento, e questo qui è il main form closing, add handler, per la routine su chiusura, quindi quando la finestra si chiude, devono essere fatte, attenzione, devono essere eseguite alcune SQL, alcune, diciamo, query al volo, per aggiornare o per inserire, perché naturalmente, a quel punto, il dataset contiene le modifiche che l'utente ha fatto, comprese gli inserimenti, i nuovi record, ma qui in fase di chiusura, bisogna essere sicuri, che queste modifiche vengono fatte, in particolare, qual è il problema? Che, se voi non inserite queste istruzioni, si genera un errore, cioè non viene praticamente, salvato, salvata il valore della relazione, cioè dell'ID, chiave primaria, nuovo, allora bisogna intercettare, lo so, è un po' complesso, ma praticamente, quando si aggiunge un nuovo record, nella tabella master, si genera automaticamente, ricordiamo che l'ID rubrica, è un campo auto incrementante, quindi si genera un nuovo valore, nel valore del campo ID rubrica, chiave primaria di tabella rubrica, questo valore servirà però, doveva essere già memorizzato, anche nel numero telefonici, come chiave esterna, nel nuovo, eventuali nuovi telefoni, che si avvano inserire nel nuovo record, e quindi bisogna gestire questo giro qua, torniamo adesso nel main form, nel main form WB, io poi dovevo chiuderlo, ok, ti lascio aperto, allora attenzione, qui siamo, bisogna fare l'end edit, questo ok, add handler, tiles adapter, ah ok, allora, binding source and edit, ok, si, ah no, le istruzioni sono, in altre, vedete, qui si fa un try, ok, c'è un, addirittura tre head handler, ok, stavolta, qui in chiusura, si generano tre head handler, cioè, sono i bello gestori di eventi, eh, gli handler, uno per, su aggiornamento della riga, eh, sul, eh, ok, per la tabella master, e l'altro per il details data adapter, ok, perché chiaramente i dati, le modifiche, gli inserimenti sono fatti a livello di data adapter, eh, e quindi qua invece dobbiamo andare a aggiornare le tabelle, eh, nel database fisico, e quindi usiamo un oggetto data adapter, e, e, un oggetto SQLite command builder, ok, al quale gli passiamo il coveramento di data adapter, per il master, vedete, poi si invoca il metodo update sul dataset 1 tables rubrica, ok, e questo fa sì, che attraverso l'SQLite command build, allora l'SQLite command build, che cos'è? Un oggetto che dietro le quinte si crea un query di aggiornamento o di inserimento al volo, cioè tipo un update set o un insert into, eh, ok, chissà l'SQL, ha già capito, sono praticamente delle query volanti che di inserimento o di aggiornamento, che vengono generate da questa classe SQLite command, del builder, in maniera intelligente, quindi, soltanto il metodo DA update, che potrebbe dare degli errori, ecco perché è inserito per mancanza di coerenza tra le chiavi primarie, eccetera, o tipi, magari tipi diversi, nelle chiavi esterne, chiavi primarie, quindi ecco perché va inserito in una try catch, eh, comunque se non ci sono problemi, DA update fisicamente, eh, sulla chiusura, siamo nella, eh, routine evento su chiusura del main form, eh, allora fa esattamente l'aggiornamento dei dati in tabella, eh, nelle tabelle, questo per quanto riguarda la master, e command builder, è sempre un altro SQLite command builder, questa volta però, vi passiamo il, il data adapter del, eh, del dettaglio, ok, la tabella numero telefonici fa l'update anche dei valori, quindi se abbiamo inserito un nuovo nominativo con delle nuove linee telefoniche, anche i nuovi numeri telefonici devono essere inseriti, vedete, update, nel, eh, nel database, in corrispondenza della tabella numeri telefonici, ok, questo è il main form closing, però vedete che sono stati definiti questi addender qui, anziché nella main form designer, allora, andiamo a vedere nella main form designer, dobbè essere ancora aperto, no, non ce l'ho chiuso, non è, la main form designer, sempre con notepad, poi abbiamo finito, allora, in fondo, ci sono, vedete, le routine, richiamate dagli handler, on row update 1, che era quella per la tabella master, la on row updating 2, eh, on row updating 2, on row updated, allora, una è updating, l'altra updated, quindi, questa è durante, praticamente, la routine che scatta, durante l'aggiornamento, ok, e un'altra dopo l'aggiornamento, allora, vedete che, nella row updated 1, ok, cosa succede, viene, eh, intercettato, il valore della nuova chiave, eh, auto incrementante, la chiave primaria del nuovo ricordo inserito, ok, e quindi, eh, fa args statement, eccolo qua, questo codice qua, viene, eh, eseguito soltanto, se, eh, diciamo, il meccanismo, cioè, il tipo di aggiornamento, è di tipo inserimento, ed eccolo qua, statement type insert, quindi, se l'argomento del statement type, args, eccolo qua, vedete, bival args, è system data common row update dev and args, questo oggetto particolare, vedete, il secondo argomento, della row update 1, ok, che abbiamo visto, collegato alla tabella master, eh, eh, quando è un inserimento, in sostanza, allora, vedete, attraverso questa query volante interna, che si chiama, select last insert row id, insomma, vedete, tutte queste cose, bisogna saperle, comunque, una volta, eh, memorizzate queste, queste, queste parti di codice, sono sempre le stesse, ok, qualunque sia la tabella, quindi, vedete, in questo modo qua, con questa tecnica, vedete, l'args row id rubrica, quindi bisogna dargli solamente il nome della chiave primaria, ok, ctype cmd execute scalar, praticamente, questo cmd execute scalar, contiene il nuovo valore della chiave primaria, quindi, in sostanza, se la tabella conteneva 81 records, no, il nuovo sarà 82, quindi, il numero 82 viene memorizzato in una tabella in TD, scusate, in una tabella, in una variabile numerica integer in TD, che abbiamo definito qua, et private intd, as long uguale a 0, che viene inizializzata a 0, l'intd, quindi, è una variabile numerica, che mi serve per passare, il nuovo numero, della chiave primaria, nella tabella numeri telefonici, allora, eccolo qua, infatti, questo avviene nella, on row updating 2, updating, eh, vuol dire prima dell'inserimento, è una specie di before insert, nell'access, before insert, cioè prima dell'inserimento, allora, prima dell'inserimento, l'args row id rubrica, questa volta, questo è il, il, il dettaglio, quindi, id rubrica, questa volta è la chiave esterna, la tabella numeri telefonici, viene attribuito il valore corretto, del campo chiave, la tabella primaria, ok, quindi 82, ad esempio, poi c'è un terzo, una terza routine, che è su un on row update, quindi è after update, sostanza, è un after update del dettaglio, ok, dove se è inserimento, ah beh, anche, ok, questo non c'entra niente con la relazione, questo è la, la routine speculare, di quella che abbiamo visto nell'altro file, nel caso quindi, si aggiunga un nuovo numero telefonico, insert, indipendente da, da quello che succede a livello di relazione, nella tabella di dettaglio numeri telefonici, ok, quindi, args row id numero c type is a good scala, questo equivale a quell'altro, sì, esatto, ok, questo perché è necessario, questo, perché se non inseriamo questa istruzione, dettaglio adapter, ok, no, no, va bene, dettaglio adapter, select common connection, vedete, nella prima parte era, DA select common connection, questo, quindi l'adapter del master, invece in questo caso è, start and pause, quindi, qui, stiamo lavorando sul data adapter del dettaglio, e ok, bene, si inserisce il nuovo numero, axoid numero, poi c'è un'ultimissima cosa, allora, il bottoncino, ve lo faccio vedere, torniamo nel, exe, vedete, il bottoncino qua, di chiusura, ecco, spiegarmi per competenza, anche questa modifica che abbiamo fatto, non è il bottone originario, ma perché il bottone originario del, del controllo, barra di navigazione record, provocava, l'immediata cancellazione del record, sia nella parte principale, che nel dettaglio, invece, l'abbiamo sostituito, proprio pari pari, con un altro bottone, la cui icona è la stessa, è l'icona, delay titan, questa qui, per intenderci, vabbè, l'x, rossa, ok, quindi l'abbiamo sostituito integralmente, per fare questo, bisogna andare nella parte, allora, ecco, private binding navigator, vedete, allora, è stato eliminato, il binding navigator, delay titan, se vi ricordate, c'era nel progetto, SQLite test 2, e abbiamo invece inserito, un nuovo pulsantino, totalmente indipendente, dalla barra di navigazione record, che si chiama, eccolo, private tool strip button, uno, è system windows form tool trip button, praticamente abbiamo sostituito, no, sono sempre della stessa classe, tool strip button, vedete, anche gli altri che stanno nella barra di migrazione, però, il gestore degli eventi è separato, in questo modo, noi possiamo intercettare, ok, generare, creare un nuovo event handler, che è da qualche parte, qui dovrebbe essere, event handler, sarà sicuramente un add handler sul tool tip, dovrebbe essere sopra, allora, vediamo un po', eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua, l'add handler, tool strip button 1, ok, elimina, ok, il test, questo è il tool tip test, ok, add handler, meet tool strip button 1 click, questo è quello con la crocetta, l'icona, vedete, viene passata con il metodo, del front file, del front file, del class image, bm, uguale image, front file, delete item, png, ok, quindi viene associato a proprietà image, ok, questo, quindi è un bottoncino, completamente separato, dal resto, della barra di navigazione record, quindi viene aggiunto l'handler separato, l'add handler, meet tool strip button click, sul routine tool strip button 1 click, che sta, dovrebbe essere qui nello stesso file, spero, se no bisogna andare, ah, eccolo qua, eccolo qua, vedete, sub tool strip button 1 click, sender as object i, e as event args, if system windows farà un message box show, message box show, vuoi davvero eliminare l'ominativo corrente? Se rispondi no, non viene fatto niente, se invece viene risposto sì, viene invocato il metodo remove current, quindi viene eliminato solo quando lo decidiamo noi, e non in maniera implicita, allora, attenzione però, perché poi nella riga, mi pare, 150, rotti, 150, ecco, 1, vedete qui, il boost ansio, altrimenti non sarebbe visibile, bisogna sostituire il bottoncino che avevamo eliminato, con questo nuovo, nel metodo add range, vedete, meet bin di navigator 1, che è l'oggetto, barra navigazione, lei con la sua interezza, viene, nella metodo add range, in fondo, abbiamo sostituito, il bin di navigator, delate item, che abbiamo eliminato, con meet tool, strip button 1, e questa è la nuova crocetta X, il risultato è quello che abbiamo visto, ok, cioè questo, che in qualunque momento, possiamo intercettare, la routine, prima di eseguire il comando, ok, bene, quanto riguarda, il master detail, su database SQLite, abbiamo terminato, quindi, qui, 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 Grazie a tutti.